Eccoci qua finalmente con un nuovo video ragazzi, io sto lavorando come un pazzo quindi non sono riuscito a registrare video, spero di tornare a farne di più, intanto ne voglio fare uno rapido rapido perché ho scoperto una cosa incredibile Zuckerberg è un cazzaro Raga, è una cosa, mi ha sconvolto la giornata Mi ha sconvolto la giornata Perché? Perché dopo aver speso Dopo aver speso 10 miliardi al progetto Meta solo nel 2021 Zuckerberg finalmente ci ha presentato le gambe Raga, le gambe La Repubblica, un anno dopo il lancio della piattaforma di realtà virtuale di Meta arrivano a avatar più realistici, negozi di abiti virtuali, ne sentivamo la mancanza, quanto li volevo E l'interoperabilità con apparecchi e schermi diversi Incredibile anche questo Ma anche i Quest Pro, visori VR dedicati alle aziende e accordi con Microsoft Accenture e Adobe Allora Praticamente, che è successo? Che hanno fatto sta conferenza? E Zuckerberg ha detto Guardate che i vostri avatar sono tutti senza gambe Guardate Questo perché è loro l'hanno fatto Perché io sono stato su Decentraland E le gambe c'erano Però, ok, loro hanno lanciato prima gli avatar senza gambe e poi Uh, guarda, ho le gambe Wow Ciao Vi sto raccontando una cosa che tra l'altro graficamente fa cacare Questo è un Real Engine 7, è sicuro, proprio 100% Insomma, fa tutta sta premessa con quest'altra tizia che entra sulle proprie gambe E arrivati a, al minuto 5 più o meno Ok, ci saranno vari tipi di gambe e poi Guarda lì Oh C'è da dire Incredibilmente realistico, eh Tutti stavano aspettando le gambe Le gambe sono difficili da fare Su questo probabilmente è vero C'è un piccolo problema però Piccolissimo Masiti Le gambe di Zuckerberg In VR In VR Forse sono un bluff Togliamo il forse perché poi è stata confermata Ma Per mostrare quanto ha annunciato l'avatar di Zuckerberg Che ha sollevato ogni gamba in aria Per poi eseguire un salto proprio di fronte all'avatar di Igerim Shorman Spero di averlo pronunciato bene In realtà potrebbe essersi trattato di una dimostrazione non troppo veritiera Secondo l'editore di Upload VR Ian Hamilton Un portavoce di Meta, tuttavia anonimo Ha dichiarato che il segmento Presentava animazioni create in motion capture Cioè c'era un tizio che saltava L'hanno catturato E poi l'hanno appiccicate sotto il corpo senza gambe di Zuckerberg Per mostrare un'anteprima di ciò che verrà Questo potrebbe voler dire che l'implementazione finale potrebbe differire Da quanto è stato mostrato in video Zuckerberg Allora già tu Fai una cosa che a me non piace Ossia Parli di utenti Totali Di Meta Per questo hanno fatto Meta Prendendo tra Facebook, Whatsapp e Instagram E grazie al cazzo che i numeri sono alti Ma poi ti mette a fare ste puttanate Con i miliardi che ci spendete No? Ma perché? Raga Non fatevi prendere per il culo da questo individuo E se disinstallate Facebook è pure meglio Ciao Ciao